Nelle scuole di tutto il centro Italia torna il progetto Energicamente. Il futuro del nostro pianeta è nelle mani dei giovani. Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo a scuola di energie rinnovabili. 6.000 studenti sono i protagonisti della sesta edizione di Energicamente, laboratorio didattico educativo sul risparmio energetico e le energie pulite rivolto alle scuole dell'Italia centrale, promosso da Estra in collaborazione con Legambiente e Giunti Editore. La risposta che abbiamo dai ragazzi è, lo dico sempre, unica e ripetibile. Ogni classe, ogni scuola, ogni ragazzo interpreta energicamente alla sua maniera e ci restituisce, quindi ci dà una connotazione particolare, peculiare, che ce lo fa diventare poi diverso ogni anno. Quindi voglia dei format, cioè i format sono, lo dico sempre, uno spartito, però la musica poi spessissimo la suonano i ragazzi. Energicamente coinvolge 226 insegnanti e come detto 6.200 ragazzi con le rispettive famiglie. Il progetto si compone di 220 percorsi didattici, 18 laboratori teatrali nelle classi. A maggio si terrà la premiazione dei concorsi e la messa in scena degli spettacoli scritti da ragazzi stessi all'interno delle proprie classi. Quello che noi abbiamo di fronte è sicuramente un orizzonte molto impegnato nel quale questo progetto rappresenta un tassello fondamentale. Motore dell'iniziativa è Estra, tra le prime dieci aziende italiane del settore pronto a quotarsi in borsa a novembre. Abbiamo da sempre nel DNA questo ruolo anche sociale e la volontà di valorizzare anche aspetti culturali come quello trattato da Energicamente. sviluppa la cultura dell'ambiente e la seconda partendo dai più giovani che rappresentano il futuro su cui vogliamo investire.